Piccolo spoiler, non è un quartiere, per così dire, povero, non è un quartiere più disagiato della città, altro che. Vi faccio vedere questa strada e vi racconto questa storia. Allora, vedete delle villette a schiera? Perché molti qua in Germania, pur essendo stranieri, se la prendono con gli altri stranieri o dicono, no, sono zone di degrado, sono zone dove vivono i rifugiati, no, no, no. Qua, chi più chi meno, stiamo diventando tutti rifugiati, ragazzi. Allora, vedete la grande tecnologia tedesca per riparare le buche? No, ma grandissima, bella. Bella la tecnologia tedesca, eh? Sì, sì. Qua sono avanti anni luce dall'Italia, e come? Guarda quella signora. Allora, un ragazzo da me ha intervistato, mi ha raccontato la storia di suo padre. Suo padre vive in questo quartiere, e come vi ho raccontato, praticamente, lui ed altri cittadini hanno mandato una lettera al comune di questa città, chiedendo di riparare finalmente queste strade, perché comunque sono piene di buche. Adesso io sono in questa zona qua. Io adesso sono in questa zona qua. Però praticamente si estendono per chilometri, si estendono. Quindi, i cittadini hanno scritto questa lettera al comune. Il comune ha risposto che non solo non riparano le strade, non la ripareranno, ma, quasi provocatoriamente, per provocare, ha risposto che se le dovrebbero riparare loro da soli. Benvenuti nella Germania del 2024. Una Germania che io purtroppo conosco bene. Allora, raga, il messaggio di questo video, tra i tanti, è quello che io vorrei dire tante persone mi scrivono in privato, visto i video che faccio sulla Germania, chiedendomi persone comunque evidentemente disperate dalla situazione lavorativa in Italia, persone che mi scrivono soprattutto dal sud Italia, chiedendomi comunque un aiuto, inviandomi il numero di telefono per cercare un lavoro, per inserirsi qua, per inserirsi in Germania, per venire a lavorare. Io qualcuno ho anche cercato di aiutarlo, anche se comunque, per favore, non è il caso che scriviate a me. Però il messaggio è, ragazzi, qua 2024, se non siete dei logopedisti, se non siete dei chirurghi disposti a imparare tedesco, se non avete una grande qualifica, qua non ne vale più la pena. Qua non ne vale più la pena perché purtroppo qua la situazione a livello di stipendi, a livello di tasse, si è italianizzata, si è italianizzata. Lo stipendio minimo, lo stipendio minimo, si aggira sui 1.300-1.400. Gli affitti costano un botto, gli affitti costano un botto. Se voi venite da soli o se voi venite con la moglie e i bambini, sì, vi danno degli aiuti, ma farete fatica ad arrivare a fine mese. Lo stesso, guardate qua, la Germania è sviluppata e, ripeto, questa situazione va avanti per chilometri. Per chilometri, dopo la strada lì svolta a sinistra e la situazione va avanti per chilometri. Molti mi criticano dicendo che sputo nel piatto dove mangio, però purtroppo comunque TikTok è un posto che attira, si vede che attira gli analfabeti funzionali e li attira molto bene. Io spero che su YouTube si riesca ad avere più magari un dialogo, comunque dipende tutto da me, dal comunicatore, ok? Ma io voglio dire che qua un minimo di pensiero critico, io racconto quello che mi circonda, racconto quello che mi circonda. Le cose buone della Germania le sappiamo e ne parlerò. Però, soprattutto, io nei prossimi video di YouTube, ragazzi, io nei prossimi video di YouTube parlerò di storie che riguardano la sanità, parlerò di quello che i tedeschi chiamano Luggenpress. Qua è tutta propaganda. Siete in buona compagnia in Italia. Qua i mezzi di informazione li chiamano Luggenpress, ovvero i mezzi delle bugie. Quindi, propaganda, tasse esose, altissime, servizi che comunque o funzionano o non funzionano, oppure funzionano molto lentamente, una burocrazia che vi manderà dallo psicologo, ricordatevi le mie parole, una burocrazia che vi manderà dallo psicologo, infrastrutture, treni, in ritardo. È tutto un mito l'efficienza tedesca, raga. Ragazzi, è tutto un mito. E la cosa ancora più grave della quale nessuno parla è comunque... Mi dispiace dirvelo, ma è comunque il fatto che qua è un paese triste, è un paese abbastanza... con un'aura un po' sfigata, ecco, diciamo. È un paese triste. Guardate ancora qua, tutta questa strada. Raga, queste sono villette, eh? Villette a schiera, sono case... Non siamo nel Bronx, eh? Benvenuti in Germania. Eh, come la mettiamo? Quindi affronteremo queste tematiche. Io spero che... Un altro dei messaggi dei miei video, io spero che questa sia una buona occasione per l'Italia e per gli italiani, soprattutto per gli italiani, per fare qualcosa di concreto per il proprio paese. Perché? Quando non c'è nessun altro posto dove andare, bisogna starsene in Italia e magari ci si unisce tra il popolo. Ok? Ci si unisce. Ricordatevi questa cosa, per finire il video. L'anno scorso, due anni fa, sono stati più di 200.000, più di 200.000 i tedeschi che se ne sono andati ogni anno dalla Germania. 2022 e 2023. Attenzione, attenzione. Un saluto, raga. Ci vediamo nei prossimi video.